Vediamo adesso il comportamento di un circuito costituito da un resistore e un condensatore in serie, quindi un circuito denominato RC serie. Disegniamolo nella forma semplice con un generatore di tensione in serie appunto al resistore e al condensatore. Resistore di resistenza R, condensatore di capacità C, il generatore di tensione sinusoidale avente valore efficace V e fasore V. La corrente nel circuito sia la I e la tensione ai capi dei due componenti sia VR e VC che identifichiamo rispettando la convenzione sui segni delle tensioni e i versi delle correnti. La tensione ai capi della serie sarà uguale ovviamente a quella del generatore V. Nella serie sappiamo che l'impedenza è data dalla somma delle impedenze, quindi nel nostro caso sarà data dalla somma dell'impedenza della resistenza con l'impedenza del condensatore, quindi l'impedenza ZR è semplicemente il valore della resistenza R reale, quindi è il valore dell'impedenza ZC non è altro che meno JXC con XC uguale alla reattanza capacitiva. Quindi l'impedenza della serie sarà R-GC, quindi un numero complesso con parte immaginaria negativa, disegniamolo sul piano di Gauss, quindi disegniamo in evidenza il quarto quadrante del piano di Gauss per poter disegnare l'impedenza della serie RC, parte reale uguale alla R, al valore della resistenza, parte immaginaria negativa pari alla reattanza capacitiva XC. Le due componenti identificano l'impedenza Z che quindi sarà rappresentata da questo segmento o da questo vettore avente angolo caratteristico dell'impedenza Fi che risulta essere sempre negativo e sempre compreso fra 0 e meno 90 gradi. Quindi l'impedenza avrà modulo Z e angolo caratteristico Fi. Come abbiamo detto, l'angolo caratteristico Fi dell'impedenza sarà compreso sempre fra 0 e meno 90 gradi, quindi lo scriviamo in questo modo, l'angolo Fi maggiore sempre compreso tra meno 90 e 0 gradi. E questo vale per tutti i circuiti di tipo RC. Se la componente resistiva è molto maggiore della reattanza capacitiva, allora l'angolo Fi tenderà ovviamente a 0, prevalendo la parte reale dell'impedenza. Se viceversa la reattanza capacitiva è molto maggiore in valore della resistenza, allora prevalendo la parte reattiva capacitiva, l'angolo caratteristico dell'impedenza tende a andare verso meno 90 gradi. Nel caso particolare in cui siano uguali la parte resistiva e la reattanza capacitiva, allora l'angolo caratteristico dell'impedenza risulta essere uguale a meno 45 gradi. Queste relazioni sull'angolo caratteristico dell'impedenza RC serie la evidenziamo perché di valore generale e di utilità continua nella soluzione dei nostri circuiti. Continuiamo nell'analisi e definiamo, andiamo a calcolare la corrente nel circuito dalla legge di Ohm generalizzata come rapporto fra, rapporto vettoriale fra v e z, quindi esprimiamolo in forma polare, i due numeri complessi v fase fi v e z, angolo caratteristico fi. Quindi nel rapporto, avrò il rapporto dei moduli v fratto z è la fase data dalla differenza delle fasi fra numeratore fi v e denominatore angolo caratteristico fi. quindi vedete che siccome fi è un valore sempre negativo compreso fra 0 e meno 90, in realtà questo meno fi v sarà quindi una doppia negazione perché abbiamo meno un angolo fi che a sua volta negativo, quindi possiamo mettere in evidenza il fatto che l'angolo della corrente sarà dato dalla somma dell'angolo della fase della tensione con il valore assoluto dell'angolo caratteristico dell'impedenza che a questo punto diventa positivo. Quindi la corrente risulta essere in anticipo in questo caso sulla tensione di un angolo pari al valore assoluto dell'angolo caratteristico dell'impedenza. Quindi I in anticipo sulla tensione oppure che lo stesso la tensione risulta essere in ritardo sulla corrente e questa ha validità generale in tutti i circuiti RC. Quindi I corrente in anticipo sulla tensione o viceversa tensione in ritardo sulla corrente. Rappresentiamo sul piano di Gauss quanto appena detto, quindi disegniamo il diagramma vettoriale sul piano di Gauss della tensione V e della corrente I. Se disegniamo un generico vettore V nel primo quadrante che rappresenti la tensione del generatore con la sua fase ΦV avremo che la corrente I risulta essere in anticipo sul vettore V, quindi la disegno in anticipo sul vettore V, in anticipo di un angolo pari al valore assoluto dell'angolo caratteristico dell'impedenza della serie, quindi al valore assoluto di Φ. Ovviamente la somma di ΦV del valore assoluto di Φ rappresenta la fase Φ con I della corrente. Continuiamo nell'analisi del circuito e andiamo adesso a calcolare le due componenti delle tensioni ai capi di R e ai capi del condensatore C, ricordandoci intanto che per l'equazione di Kirchhoff alla maglia la somma delle tensioni ai capi di R e ai capi di C deve essere uguale alla tensione del generatore V applicata appunto alla loro serie. Tensione ai capi della resistenza per la legge di Ohm sarà ZR per il vettore I, quindi modulo R per I e fase Φ con I più zero, la fase della resistenza, quindi risulta essere in fase con la corrente che ha fase Φ con I. Quindi la Vr, la tensione ai capi della resistenza avrà nel diagramma vettoriale una direzione che giace sulla stessa direzione della corrente I, quindi possiamo scrivere che Vr risulta ovviamente in fase con la corrente I, come in tutte le resistenze. Quindi sul diagramma vettoriale la individueremo facilmente. La tensione ai capi del condensatore sarà uguale, sempre per la legge di Ohm generalizzata, all'impedenza del condensatore stesso moltiplicata per il vettore della corrente, quindi passando ai valori complessi, meno J x con C, impedenza del condensatore, moltiplicato il vettore corrente I, quindi avremo i due numeri espressi in forma polare, x con C con fase meno 90 gradi per la ZC e la I fase Φ con I per la corrente. Nel prodotto abbiamo il prodotto dei moduli, quindi x con C per I, per il valore efficace della corrente, e la somma delle fasi, quindi avremo Φ con I, in questo caso meno 90 gradi, perché devo sommare appunto meno 90 gradi come angolo caratteristico dell'impedenza ZC, quindi vedete che la tensione VC risulta essere in ritardo di 90 gradi rispetto alla corrente I, quindi giacerà su una direttrice perpendicolare alla corrente in ritardo sulla stessa. Andiamo quindi a rappresentare queste relazioni che abbiamo trovato sempre su un diagramma vettoriale sul piano di Gauss, ridisegniamolo per maggiore chiarezza, allora questo è il vettore della tensione V, disegniamo anche il vettore della corrente I erogata dal generatore. Abbiamo che la tensione V con R, abbiamo detto in fase con la corrente, quindi giace sulla stessa direzione della corrente che tratteggio. La tensione V con C invece risulta essere di 90 gradi in ritardo sulla corrente, quindi sarà perpendicolare alla corrente alla corrente formando un angolo di 90 gradi in ritardo, questo. La somma vettoriale della tensione VR e della tensione VC deve essere uguale al vettore V, quindi abbiamo che graficamente la somma di VR e di VC, dei due vettori che abbiamo individuato come direzioni, deve essere uguale a V e quindi deve formare un triangolo rettangolo chiuso con i due cateti VR e VL e ipotenusa V con un angolo di sfasamento tra tensione e corrente pari al valore assoluto della corrente.